Mentre Joe Biden, presidente degli Stati Uniti per la prima volta al G7, collegato in streaming con Macron, Mario Draghi e gli altri leader mondiali, rilancia l'alleanza atlantica per contrastare la diplomazia dei vaccini che vede attivissimi Cina e Russia, i russi sono già nel cuore della Toscana per cercare aziende in grado di produrre il vaccino Sputnik. Pare ci sia già una trattativa molto avanzata, lo scrive Repubblica nell'edizione odierna con un'azienda senese che abbia reattori liberi ed è pronta per una joint venture con i russi. Non si tratterebbe della multinazionale GSK, che a Siena ha un grande stabilimento dove produce il vaccino contro la meningite, ma non quello anti-Covid, dislocato in Belgio. Certo è che Siena ha una grande tradizione nel campo dei vaccini, iniziata con lo storico istituto scavo e poi approdata ad un vero e proprio distretto delle scienze della vita, con tante aziende medio-piccole disseminate nel territorio. Una di queste sarà pronta a produrre a casa nostra il vaccino russo? È presto per dirlo. Sputnik deve ancora passare dal vaglia autorizzativo dell'EMA, l'Agenzia di Controllo Europea, che ha i suoi tempi, e ormai lo abbiamo capito, troppo lunghi rispetto alla rapidità del virus di espandere il contagio.